E ancora volano le farfalle La forza e l'amore per la vita più potenti delle afflizioni della malattia. Arriva al cinema Ancora volano le farfalle, film girato a Pesaro ispirato alla storia e alla lezione di vita di Giorgia Righi, 25 anni di Gallo di Petriano che dall'infanzia vive scavalcando i limiti dell'invalidante Atassia di Friedrich. Una malattia degenerativa ereditaria alle quale Giorgia ha costantemente reagito con tenacia, ottimismo e intraprendenza. Uno stile di vita che Giorgia ha trasformato nel libro Vivere volando e che l'incontro con il regista Joseph Nenci ha portato ad adattare in un lungometraggio presentato oggi nel comune di Pesaro. Raccontare una storia così delicata come quella di Giorgia Righi su una pellicola sicuramente è un'avventura difficile già in partenza. Perché questo? Perché quando si raccontano dei drammi legati soprattutto a delle disabilità che possono nascere purtroppo da patologie, in questo caso anche proprio dalla giovane età, Giorgia Righi adesso oggi è una ragazza di 24-25 anni e purtroppo sono tantissimi anni che combatte con l'Atassia di Friedrich. Noi però abbiamo avuto la capacità secondo me di capire qual era la fotografia esatta da donare alla pellicola interpretando Giorgia. Giorgia combatte sì con un dramma ma ha trovato nel dramma la forza di reagire e quindi è un film e una vita, soprattutto quella vera di Giorgia Righi, è una vita di riscatto e di rivincita sulla vita stessa. Così lo è il film. Il film racconta sì, ha una colonna portante drammatica, ma racconta però anche il riscatto e la rivincita di Giorgia. A trasferire i sentimenti di Giorgia Righi sul grande schermo è stata la straordinaria interpretazione di Beatrice Mariani. Beatrice Mariani è l'attrice che interpreta la mia parte, Giorgia, che ha una malattia, l'Atassia di Friedrich, ma nonostante questo vuole realizzare i suoi sogni e quindi è stata anche un'emozione grandissima poter vedere delle parti della mia vita riportate sullo schermo. Il film, prodotto da IP Group e trasmetto.it, arriva sul grande schermo di Pesaro per la prima per poi allargarsi ai cinema di Rimini, Ancona, Porto Sant'Elpidio e Prato, dove parte degli incassi sarà devoluta alla ricerca sulla tassia di Friedrich. La pellicola è stata girata interamente fra Pesaro e territori limitrofi quali Petriano e Pergola. Girare un film importante, profondo, come il messaggio che il film stesso porta nella propria città direi che è ancora più emozionante. Le emozioni e gli stati d'animo bellissimi sono iniziati fin da quando ho conosciuto Giorgia che ci ha trasmesso veramente tutte queste bellissime sensazioni. Il mio personaggio è un personaggio non facile da interpretare perché ha uno sfondo di personalità ironica, burlora, ma che è calato in un momento della sua vita abbastanza delicato e particolare per una serie di vicissitudini. Quindi è stato molto emozionante, impegnativo, ma molto emozionante interpretarlo.